buongiorno a tutti e benvenuti ad un nuovo appuntamento di fight club press settimana doppio appuntamento perché la serie b ha giocato ben due volte gioia giocato ieri e martedì giocherà questo fine settimana il cosenza reduce da una sconfitta a san vito marulla contro la cremonese sarà ospite del pisa all'arena garibaldi ne parleremo questa mattina insieme a michele bufalino giornalista della nazione buona buongiorno a tutti salve a tutti gli ascoltatori e follower benvenuto e grazie per essere qui con noi il cosenza come dicevo è reduce da una sconfitta contro la cremonese era cimolata in casa purtroppo non siamo riusciti a mantenere la buona prestazione contro il palermo anche se la squadra ha giocato era in campo però purtroppo non siamo riusciti a portare punti a casa il pisa in questo momento è reduce da tre risultati utili consecutivi che hanno mostrato come comunque la squadra sia in ripresa per qualità per tecnica io volevo chiederti come si sta preparando la squadra alla partita di domani contro il cosenza allora fondamentalmente gli allenamenti sono quasi tutti di mattina in una qualche misura diciamo ora pensiamo anche a prima della trasferta di reggio di reggio emilia quasi il pisa non non si è nemmeno allenato ha fatto un allenamento in mezzo più o meno ha fatto defaticamento dopo la partita a ritorno in città ieri però bene o male diciamo è più che alto una preparazione improntata anche a video anche all'analisi dei propri errori e dell'avversario e quindi più o meno sarà così la preparazione ecco si farà un po la conta di chi c'è chi non c'è i giocatori più o meno in forma perché poi sappiamo ci sono stati anche tanti infortuni ma nel caso ne parliamo dopo infatti proprio di questo volevo parlarti ti faccio ora questa domanda Ettore Gliozzi è un ex cosenza a pisa ha fatto benissimo lo scorso campionato quest'anno ancora non è sceso in campo proprio per un problema di infortunio come sono le sue condizioni ad oggi quando potrà ritornare in campo ma secondo me tornerà verso i primi di novembre quindi salterà tutto il mese di ottobre la sfortuna degli ozzi è stata che lui durante il ritiro di rovetta ha avuto questo gonfiore al ginocchio è stato subito chiaro che fosse un diciamo una sorta di edema osseo e hanno provato un approccio conservativo non è funzionato lo hanno dovuto operare lo hanno provato anche a cedere da da operato già operato o comunque mentre si stava per operare il bari sapeva in qualche modo che sarebbe partito quindi bene o male e non si sa non si capisce neanche se poi gli ozzi effettivamente faccia o non faccia parte di questo gruppo squadra anche se in lista e se poi verrà eventualmente ceduto a gennaio se magari tornerà e farà parte al centro della squadra personalmente credo che uno come gli ozzi oggi serva moltissimo perché uno dei difetti più gravi del pisa è quello dei gol degli attaccanti che non arrivano ma infatti io leggevo inizio campionato proprio della possibilità insomma che potessi andare al bari e pure l'anno scorso io ho visto che comunque ha dato tanto perché c'era questa volontà di cederlo probabilmente perché col modulo nuovo del pisa che è più o meno il 4 2 3 1 in generale non essendoci più la coppia d'attacco un attacco formato la torre grossa moreo mazucci mlacar eccetera eccetera probabilmente vede gli ozzi un attaccante di troppo o comunque vede numericamente questo numero di giocatori più più esagerato più marcato di quanto dovrebbero essere quindi il candidato alla fine a dover andare via era lui fondamentalmente ecco quindi è arrivato mister aquilani che cosa è cambiato nel pisa e qual è l'obiettivo di quest'anno noi l'abbiamo visto il pisa sfiorare la serie a l'anno scorso fare un campionato che è stato un po' altalenante quest'anno invece qual è l'obiettivo e cosa è cambiato rispetto magari allo scorso anno anche a livello magari tecnico allora sono cambiate un po' di cose in realtà perché l'anno scorso forse già un po' avrebbe doveva è doveva cambiare questo ciclo ecco d'angelo è stato un grande allenatore ha fatto la storia del pisa aveva un modo di approcciare le partite diverso bene o male loro hanno seguito il filone il dirigente è il filone del chiamiamola moda cambiamento anche del calcio che punta più al gioco palla a terra e meno magari a un diverso tipo di attenzione ai dettagli dell'avversario sono andati in quella direzione prendendo aquilani volendo provare a con un progetto biennale a arrivare in serie a di slancio un primo anno che fosse cioè questo diciamo più di preparazione senza anche tanta pressione il motivo per cui poi è stato scelto aquilani magari non non un pirlo non un altro allenatore comunque già in lizza perché c'erano stati un po di allenatore in lizza e quindi un attore che dovesse completare anche un suo processo di tra vivete formazione affacciandosi per la prima volta dei professionisti con l'obiettivo di arrivare al playoff o magari poco sotto non sarebbe stato un grosso quindi diciamo l'inquisa punta principalmente playoff se riesce ad andare sul primo anno benissimo se non ci riesce forse anche meglio perché si prenderà e si preparerà di slancio all'anno successivo questo diciamo è l'obiettivo della società anche se poi il mercato con i tanti arrivi ci fa capire che insomma questo almeno anche sulla carta in realtà le ambizioni sembrano molto importanti io tra l'altro in realtà sperato che il piso salisse in cui ha fatto un bellissimo campionato lo meritava però purtroppo alla fine è caduto e per fare un appunto ma giusto per fare una parentesi parlava parlavi di pirlo ma io credo che alla fine per quello che sta succedendo un po con la samba forse è meglio insomma che si sia virato poi su un altro allenatore sono d'accordo detto questo io volevo tornare alla partita di domani e volevo chiederti che tipo di formazione si chiederà in campo contro il cosenza quidani si ha già studiato un po il tipo di squadra che è il cosenza allora sicuramente dobbiamo capire poi cosa emerge dalla conferenza stampa anche pre partita però possiamo dire che la gara contro la reggiana è servita al pisa anche per cambiare un po le carte in tavola perché sono stati ben tre esordienti dal primo minuto chiamiamoli così forse due e mezza con barbaris che ha fatto un risultato di assoluto piccinini e ioreskin che ha giocato per 75 minuti tre giocatori che solitamente almeno per quanto riguarda ioreskin e piccini nessuno pensava avrebbero potuto giocare titolari e barbaris che non aveva fatto neanche un minuto buttato subito nella mischia dal primo minuto ci ha sorpreso la squadra ha retto bene e ora bisogna capire soprattutto per quanto riguarda la partita che verrà chi potrà giocare dal primo minuto e chi no ora io la provo ad abbozzare così seguendo un 4 2 3 1 posso pensare a nicolà strepari invece di barbieri questa volta un calabresi dal primo minuto a destra la conferma dell'asse le verbe canestrelli con beruato a sinistra probabilmente al posto di barberi si giocherà miguel veloso a primo minuto bisognerà a capire se marin andrà in panchina o mai oppure ritornerà dal primo minuto anche se hanno fatto la staffetta o migueloso quindi potrebbe riproporsi il duo marin appunto miguel veloso e poi sulla tre quarti io confermerei arena probabilmente verrà messo anche la cara nuovamente e vignato è l'unica punta di potrebbe essere anche in questo caso torre grossa masucci o moreo nuovamente quindi a meno che non la car non venga dirottato come prima punta e poi non rivediamo uno tra piccinini o anche tour e in quella zona del campo ecco questo io credo possa essere l'undici di schieramento del pisa contro contro il cosenza appunto all'arena garibaldi e invece per quanto riguarda il cosenza cosa pensi della formazione di mister caserta e se c'è un giocatore che ad oggi il pisa dovrebbe tenere e temere scusami rispetto agli altri allora in realtà il mercato del cosenza è un mercato che a me è piaciuto molto quindi faccio anche complimenti a gemmi di persona glielo fatemi che so che per lui porta sfortuna però li faccio in trasmissione diciamo così ok ok ad ogni modo l'acquisto di canotto secondo me è stato importante perché è un giocatore che a me è sempre piaciuto e che il pisa lo ha sempre sofferto quindi credo che sia uno di quei giocatori che ecco se dovesse uscire qualcuno da portare per prendere i canotto un altro giocatore che ha sempre punito il pisa e tutino tra l'altro quindi diciamo che il cosenza ben due giocatori che che storicamente negli ultimi anni hanno sempre timbrato il calterino contro il pisa un giocatore che a me piace tantissimo interessante anche perché da buon nerd quali sono l'ho anche preso in qualche carriera a futuro manager o a fifa è fontana rosa il difensore centrale che a me affascina e secondo me è un ragazzo dal dal futuro dal futuro scritto comunque è un ragazzo che sicuramente si farà strada e ecco quindi dovessi dire tre giocatori che temo sono loro per motivi ovviamente diversi l'uno dall'altro poi c'è anche l'ex francesco forte in attacco che la pisa non ha brillato in prima squadra però aveva fatto un'importante ascesa nei giovanili poi andò all'inter ci fa tutta questa trafila eccetera eccetera dove la ritorna ad avversario e sicuramente anche lui ha dei numeri che che possono insomma essere essere interessanti questi sono un po i giocatori e per concludere ancora il campionato è lungo appena iniziato però che idea ti sei fatto di questo campionato quali sono secondo te le squadre che saranno protagoniste per la promozione quelle che invece potrebbero arrancare in bassa classifica allora io fin dalla prima giornata ho detto e lo ripeto che secondo me il venezia può essere una delle favorite ovviamente insieme al parma mi ha detto anche in trasmissione da me a finestra sull'arena e devo dire che sono due squadre che penso che andranno per fare un campionato di questo tipo altre squadre su cui bisogna concentrarci sono palermo il como la cremonese anche se la cremonese per me è magari un gradino leggermente sotto nel complesso da playoff ecco una squadra che non mi aspettavo fosse così in basso e lo spezia mentre invece la sandoria fin da subito si è capito che gli mancava qualcosa a livello di organico e infatti lo stiamo vedendo secondo me non è nemmeno troppa colpa di pirlo squadre che invece possono sorprendere io ho messo dentro il cosenza per il mercato e poi metterei anche il modena che secondo me è una squadra molto sottovalutata e che rischia di poter fare un campionato importante il cosenza lo metterei diciamo nella metà metà alta della classifica se farà quello scaglione anche a livello mentale hai fatto un campionato importante ora il gruppo che deve fare questo scaglione mentale ok l'ambiente si sa è un ambiente che già improntato quello di cosenza la la grande passione quindi bene o male se arriveranno dei risultati ci saranno crescente aspettative anche dal pubblico e dovranno essere bravi a gestirli in panchina in dirigenza e nel gruppo squadra quindi io vedo un cosenza che potenzialmente la posizione che ha adesso di classifica rispecchia bene o male una potenzialità di partenza quello che può fare di più secondo me è nelle sue corde ma dipenderà anche da da tanti avversari è un campionato nel complesso un po' più facile secondo me rispetto agli ultimissimi anni però presenta delle difficoltà specialmente in alta classifica forse più elevate come diciamo allargamento alla forbice playoff sì assolutamente anche probabilmente per quanto riguarda proprio le prime posizioni quest'anno non ci sarà magari una squadra che spiccherà su tutte ma magari ci sarà un po' un ricambio quindi vedremo cosa succederà anche perché il campionato di serie b è bello anche per questo io ti ringrazio sei stato gentilissimo do appuntamento ai nostri tifosi per la partita molti probabilmente verranno da cosenza poi vedremo insieme in quanti ma già si stanno organizzando all'arena garibaldi alle ore 14 sabato 30 settembre io ti ringrazio ancora una cosa la voglio dire perché avevo letto qualche qualche polemica e secondo me giusta perché obiettivamente 27 euro per il settore di curva sud secondo me sono davvero esagerati abbiamo scritto anche noi la società quest'anno ha alzato molto il costo dei biglietti troppo e quindi mi dispiace per i tifosi del cosenza però personalmente sono d'accordo con chi ha scritto che i biglietti sono troppo alti storicamente da noi non è mai stato così quindi quest'anno purtroppo andate in questa maniera mi dispiace per chi verrà e avrà dovuto pagare un prezzo secondo me troppo alto per un settore che obiettivamente non è neanche all'altezza di ospitare tifoserie importanti oggi come oggi si è vero diciamo che ci sono state un po di polemiche anche perché c'è un viaggio da sopportare quindi 27 euro è tanto anche a cosenza sono aumentati i prezzi è andata così purtroppo sono delle scelte societarie non si possono poi più di tanto criticare o giudicare perché alla fine va poco penso possa servire io ti ringrazio ancora grazie a te ovviamente a lupi si nasce naturalmente e noi diamo appuntamento alla partita e a tutti poi i nostri informati che vedrete nel corso di questi giorni io ovviamente vi aspetto subito dopo il match per commentarla insieme con terzo tempo rosso blu grazie a tutti e buona giornata ciao ciao ciao